Buongiorno, sono la dottoressa Justin Farina e oggi ti voglio raccontare quello che mi è accaduto questa mattina in farmacia. Infatti è venuta una signora a misurare i suoi livelli di colesterolo dato che negli ultimi mesi li aveva abbastanza elevati ed ha notato con molto stupore che questi si erano ridimensionati, erano tornati praticamente a dei valori stabili. Infatti mi ha confessato che nell'ultimo periodo aveva iniziato a fare attenzione all'alimentazione ma anche a praticare dell'esercizio fisico in modo costante e regolare. Infatti l'esercizio fisico aiuta molto da questo punto di vista in quanto è stato visto che camminare regolarmente tutti i giorni o anche fare delle piccole corse diminuisce i livelli di colesterolo, aumenta i livelli di colesterolo buono e diminuisce i trigliceridi e la glicemia. Questo non solo ma come tutti i muscoli anche il cuore che è un muscolo quando allenato dall'esercizio fisico prende forza e vigore. Questo riguarda anche l'apparato muscolo scheletrico che con il passare dell'età va incontro a del deterioramento. Invece è stato visto che allenare costantemente i muscoli li rende più forti e quindi li rida vita. E anche per quanto riguarda il sistema immunitario è stato visto che praticare costantemente attività fisica aiuta il nostro sistema immunitario. Quindi se vedi per strada un signore che corre sotto la pioggia in realtà questo non è matto, non è pazzo, non ha voglia di bagnarsi ma sta pensando alla sua salute. Spero di esserti stata utile e ricordati che la farmacia di Nardo sta a cuore il tuo benessere.